Dal British Museum di Rondra Cortona immostra oltre 150 opere tra reperti etruschi, dipinti, disegni, documenti antichi, oggetti d'epoca, manoscritti e volumi. Oggi un piccolo anticipo della mostra che sarà inaugurata il prossimo 21 di marzo al Mike di Cortona e che si intitola Seduzione Etrusca, dai segreti di Alckham Hulme alle meraviglie del British Museum. Dopo la mostra con l'Hermitage e quella con il Louvre, chiudiamo questa triade con il British Museum e Alckham Hulme. È sicuramente delle tre la mostra più importante, non solo perché i pezzi sono di valore straordinario e molti di essi non sono mai usciti dall'Inghilterra, ma anche perché insieme a quei pezzi portiamo anche dall'Italia alcune delle testimonianze più note dell'arte etrusca. E infine perché questa mostra, oltre a essere una mostra sugli etruschi, è anche una mostra sull'etruscologia. E infatti abbiamo qui il manoscritto del primo testo di etruscologia mai editato, il De Etruria Regali, che è stato pubblicato proprio grazie all'interessamento e al generoso finanziamento di Lord Cook nel 1700. Siamo di fronte a un evento straordinario perché dopo 200 anni tornano in Italia dei grandi nuclei di oggetti etruschi dall'Inghilterra. In particolare il British Museum ci omaggia con oltre 50 pezzi che vengono dalle più importanti città etrusche. In particolare volevo segnalare alcuni idoli del Falterona, oggetti in bronzo da Rezzo, da Cortona, oggetti in oro da Chiusi, da Perugia, da Orvieto, fino ad arrivare a Vulci. Oltre al nucleo del British abbiamo anche un grande omaggio da parte del Museo archeologico nazionale di Firenze, costituito dalla statua dell'Aringatore, che è un po' il simbolo dell'arte etrusca e della bronzistica etrusca. E poi molti altri oggetti dal castello di Olcamol, dove risiedette il primo grande appassionato di etruschi, Thomas Cook, con un'immensità di quadri e disegni che lui acquistò in Italia. Veramente una kermesse dell'archeologia e del turismo antelitteram.